Beni in comune, normative, procedure e strumenti per le pubbliche amministrazioni per la gestione, l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati alle mafie. Un seminario formativo su iniziativa del comune di Caltanissetta alla Scarabelli, moderatore l'avvocato Boris Pastorello, assessore comunale ai beni finanziari e patrimoniali del comune Nisseno. Abbiamo intervistato Antonio Balsamo, presidente della prima sezione della Corte d'Assise e della sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Caltanissetta. A me sembra il punto di partenza di un dialogo permanente che dobbiamo costruire per far sì che i beni confiscati non siano soltanto una ricchezza sottratta alle organizzazioni criminali ma anche un fattore di sviluppo del territorio. Quali problematiche apre questo tema? Ma anzitutto c'è l'esigenza di un coordinamento e di una sinergia tra l'autorità giudiziaria, le altre istituzioni e la società civile. Tutti i magistrati che si sono impegnati fino al sacrificio della vita nella lotta alla mafia hanno sempre pensato che il loro impegno doveva essere accompagnato da un analogo impegno dell'intera società. Il settore dei beni confiscati proprio con questa logica del riuso a fini sociali è una delle potenzialità migliore di realizzazione di questa aspirazione che chi ha creduto veramente in una Sicilia diversa ha coltivato. A livello burocratico quali sono le criticità più rilevanti? In realtà noi abbiamo costruito un sistema che funziona molto efficacemente per quanto riguarda il sequestro e la confisca, mentre presenta tuttora delle criticità per il collegamento tra la fase dell'amministrazione e la fase della destinazione del bene. Io penso però che si potrebbero realizzare anche in una realtà come quella siciliana e di Caltanissetta delle esperienze simili a quelle che si sono realizzate a Roma o a Milano e che hanno visto un collegamento stretto tra amministrazione del bene dopo il sequestro e la sua destinazione possibile successiva alla confisca grazie ad una forma di pubblicità che già deve essere realizzata nella fase immediatamente successiva al sequestro e ad una collaborazione tra il Tribunale e l'Agenzia per i beni confiscati, gli enti territoriali e le organizzazioni rappresentative della società civile. Sulla destinazione dei beni c'è sempre una certa attenzione in tutti i contesti sociali. Sì c'è una grande attenzione per la verità giustificata anche dalla potenzialità che questi beni hanno di sviluppo del territorio e certamente abbiamo molto da costruire perché è chiaro che si tratta di una misura innovativa, è stata creata dalla legge 109 del 1996 promossa da Libera e di altre espressioni della società civile, adesso è stata anche vista dall'Unione Europea come il modello di riferimento per costruire un sistema di intervento sugli aspetti economici della criminalità comune ai vari Paesi membri dell'Unione Europea.